Decima lezione, cari amici. Allora, prima di iniziare, un avviso per i maturandi, nella speranza che ve ne siano alcuni fra i miei visualizzatori. Se così non fosse, informateli. Questa lezione è soprattutto dedicata a loro. Allora, cari maturandi, per quanto concerne la prova orale che andrete a sostenere, io vi suggerisco di proporre ai vostri insegnanti esaminatori alcuni argomenti decisamente originali, magari estraendoli da queste mie lezioni. Ad esempio, sì, proprio la costruzione di un testo poetico. Partite dal famoso aforisma di Paul Valéry, sono gli dèi a concederci la grazia del primo verso, ma poi tocca a noi costruire. A questo punto parlate della modalità di costruzione di un'ottava, la trovate in sede di ripasso nella quinta lezione, o anche della terza rima, la trovate nella sesta lezione, o del sonetto, il sonetto lo trovate nell'ottava lezione. Ecco, ripassate. Oppure di uno stornello, dello stornello sto per parlare adesso. Partiamo però da altri fenomeni fonici al di là, oltre la rima. Iniziamo con l'assonanza e la consonanza. Si ha assonanza fra due o più parole quando, partendo dall'ultima vocale accentata, risultano identiche le vocali, non le consonanti. Facciamo un esempio. Batterio, rimedio. Il gruppo rima di batterio, erio. Il gruppo rima di rimedio, edio. Come vedete, come sentite, risultano identiche le vocali, ma non la consonante. Erio, edio. E così un altro esempio. Cavallo, pazzo. Allo, azzo. Risultano identiche le vocali, non le consonanti. Bacino, esaudito. I-no, i-to. Come sopra. Poi si ha la consonanza fra due o più parole quando risultano identiche le consonanti delle ultime lettere, ma non la vocale accentata. vaccino, antiveleno. I-no, i-no. Come vedete, le ultime, le consonanti delle ultime lettere risultano identiche, non la vocale. I-no, i-no. Brilla, stella, muraglia, bottiglia. A proposito di consonanza, questa riguarda per l'appunto lo stornello. Lo stornello è un componimento popolare di tre versi, un quinario e due endecasillabi. Il primo e il terzo rimano fra loro. L'endecasillabo di mezzo deve consonare con gli altri due. L'attacco è di solito introdotto, dato dalla parola fiore, o fior, cui segue una designazione reale, fior di limone o figurata, fior di ragazza. Ecco, lo stornello, premetto, si presta ai più svariati argomenti, dall'eleggiaco allo scherzoso. Perché si intenda bene? Ora mostro due stornelli di Gigetto d'Artuffello, un nostro caro amico. Ecco, vediamo di mostrarlo bene. Fior di tuffello, sto in fase due, me sento un po' citrullo. Sai che te dico? Faccio uno stornello. Notate bene? Allora il quinario, fior di, fior de tuffello. L'accento cade in quarta sede per l'appunto nel quinario, perché ci sia il quinario. Sto in fase due, me sento un po' citrullo. L'endecasillabo di mezzo. Terzo e ultimo, endecasillabo. Sai che te dico? Faccio uno stornello. Ecco, come vedete, ello, ullo, ello. Il secondo, l'endecasillabo di mezzo, va a consonare con il quinario iniziale e con il secondo, endecasillabo. Un altro esempio, sempre da Gigetto. Vediamo. Allora, leggiamo. Fior de vaccino, si nun arrivi tu, non so sereno. Aspettate, ecco, lo metto meglio. Fior de vaccino, si nun arrivi tu, non so sereno. A consolamme resta solo ervino. Come sopra, ino, eno, ino. Il primo endecasillabo, quello di mezzo, va a consonare con il quinario, fior di vaccino, e con l'ultimo endecasillabo, a consolamme resta solo ervino. Provatevi ora voi, cari maturandi, a stendere uno stornello su un argomento a vostro piacere. Se avete dei dubbi, inviatemelo nei commenti. Io sono disposto a correggervelo, perché no? Gratuitamente! E anzi, spargete la voce. Aspetto i vostri stornelli. Alla prossima, grazie!